L'avvocato Dante Capriulo, candidato al Consiglio regionale pugliese con la lista Puglia Solidale e Verde, candidato presidente Michele Emiliano. Taranto vive il dramma ambientale e purtroppo i tarantini si trovano costretti a dover scegliere tra lavoro e tutela della vita, tutela dell'ambiente. Una scelta che non dovrebbe mai esistere, contrapporre queste due realtà. Ne parliamo con Capriulo. Qual è la sua posizione su Ilva Arcelor Mittal? Sì, intanto noi abbiamo una lista all'interno della coalizione Puglia Solidale e Verde che sicuramente esprime una posizione anche più chiara rispetto ad alcuni temi. Io poi personalmente, l'ho anche detto più volte in Consiglio comunale, penso che così non si possa più andare avanti. Siamo arrivati oramai ad un punto di non ritorno. L'Ilva, obiettivamente, per quello che leggiamo, per quello che vediamo, è un'azienda che sta cadendo a pezzi. L'intervento dello Stato, perché non dimentichiamo che attualmente la proprietà dello Stato, dato in concessione ad Arcelor Mittal, è un intervento che si sta dimostrando anche inefficace. Restano quelli che sono i nodi. Per quanto mi riguarda, per l'esperienza che abbiamo maturato, per quello che credo abbia maturato la stragrande maggioranza della città e della provincia di Taranto, credo che la salute vada al primo posto e quindi ha affermato questo principio, che la salute va al primo posto, poi tutto il resto ne viene di conseguenza. Per cui o l'Ilva, effettivamente, e qua ci vorrebbe secondo me un miracolo, cambia le modalità di produzione. Michele Emiliano in questi anni si è speso per la decarbonizzazione, anche su questo, tante polemiche, però intanto è un'idea che va valutata anche dal punto di vista tecnico-scientifico. Io però penso che oltre a questo servano l'applicazione di alcuni strumenti normativi che già ci sono, dalla valutazione del danno sanitario, dalla necessità che l'AIA, l'autorizzazione integrata ambientale, è frettolosamente lasciata. Tra l'altro vorrei ricordare agli elettori che adesso vogliono votare centrodestra, che all'epoca il centrodestra sulla prima AIA veramente ne combinò di tutti i colori, per cui il periodo dei primi anni 2000 sono stati contornati da tutti i problemi che abbiamo avuto proprio a seguito di quell'AIA che fu rilasciata all'epoca. Attualmente abbiamo un'AIA che secondo me va completamente di vista e che deve contenere all'interno degli elementi normativi che già esistono. Penso alla valutazione del danno sanitario, ma penso soprattutto, e su questa c'è stata anche una proposta che ho fatto in Consiglio Comunale, approvata alla quasi unanimità, che si chiama Valutazione Integrata Ambientale Sanitaria, cosiddetta Vias, che consente appunto di valutare come una produzione si sposa con la salute, cioè come anche qualsiasi attività industriale di carattere pesante tutela al massimo la salute dei cittadini. Io credo che se non ci sono questi elementi, se non c'è la sicurezza della salute dei cittadini, così non si può andare avanti. Quindi diciamo anche ogni ipotesi, pure quelle estreme, a me non spaventano, perché ripeto, noi dobbiamo tutelare innanzitutto la salute dei cittadini e anche ovviamente dei lavoratori. Poi tutto questo, lo ricordo, ma credo che lo diamo tutti quanti per scontato, va fatto nella salvaguardia di quei pochi che ormai sono rimasti a lavorare in ILVA, perché qua se continuiamo così, tra cassa integrazioni, mobilità, espulsioni, alla fine rimangono le macchine che camminano da sole, quindi ovviamente ai lavoratori dell'ILVA, attuali, ex ILVA, vanno date tutte le garanzie possibili e immaginabili, ma ripeto, per quanto mi riguarda, perché su questa decisione maturata anche con sofferenza negli ultimi anni non torno indietro, la salute prima di tutto.